...perchè mi stanno guardando 20.000 contatti sulla pagina a faccine e curiosi sulle mani La pagina mi vuole vedere domani tutti che si collegano e dicono ma che cosa c'era? Ieri al diciottesimo di Danila il delirio sulle mani Luigi mi fai sognare con un altro pezzo e Luigi qua con solo nuova, nuova bizzecca stanno laudando è vero? è buonissimo lo solleviamo il fidanzato in aria amole vai lo prendiamo in braccia anulemascoli, anulemascoli prendiamolo in braccia ohhhh bellissima famiglia, sanzi e culini grazie